ecco, ecco, mister coppino ciao a tutti vediamo oggi cosa fa mister coppino vediamo, 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 sono proprio curiosa ciao, ciao a tutti ciao, 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 ciao come state? ah, oggi vi parlo di i denti sì, sì, è di tutta la bocca e dello gusti nomi sì, 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 allora, guardate un po' ho preparato un bel cartellino, guarda, tutto blu ecco lì, con dei nomi sopra nomi tipo labbra, palato, lingua, incisivi, canini, premolari, molari oh, 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 sì, 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 tutti questi nomi si trovano dentro la nostra bocca sì, 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 ora vediamo dove, 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 oh, ecco qua, dove, 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 ecco qua che arriva la slide ecco qua, allora, abbiamo praticamente i denti che hanno diversi nomi allora ci sono gli incisivi che sono quelli sia superiori, i quattro superiori, quelli gialli nella figura e sotto e poi i canini che sono quelli arancioni che si trovano vicino agli incisivi sopra e sotto e dopo, vicino ai canini, si trovano i premolari quelli verdi, ok? eccoli qua e poi, i molari quelli marroni vedete? sì e poi ci sono, sì, sì, che cosa c'è qui altro nella nostra lingua? ah, è la lingua c'è la lingua quella con cui sentiamo i gusti delle cose e che ci aiuta anche a parlare sì, la lingua e poi la cornice di tutto questo è le labbra labbro inferiore e labbro superiore ecco le labbra belle poi dentro abbiamo anche il palazzo eh sì eh sì ecco qua praticamente vi ho detto tutti questi nomi buffi che si trovano dentro la nostra bocca ah allora se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale per seguirci ok? va bene Tatevana? sì sì ok va bene ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.